bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video sono xyuder e oggi ragazzi continuiamo a vedere le sfide della settimana numero 2 della stagione 4 di fortnite ieri abbiamo visto insieme al nostro amico depez dove andare a trovare la stellina quella che ci viene chiesta di cercare tra un grande schermo una macchina rosa e uno spaventapasseri oggi invece ci togliamo dai piedi la missione di ballare di fronte a sette cineprese cominciamo subito ragazzi qua a putrido pantano possiamo decidere di scendere per trovare ben due cineprese una vicino all'altra come sapete ragazzi a putrido hanno messo due set cinematografici con due begging screen green screen e tanto di elicottero adesso ragazzi andremo giù di prepotenza e vi farò vedere dove sono le due cineprese allunghiamo un pochettino la velocità eccolo lì una si trova praticamente vicino al primo green screen quello grande che è quello lì alla nostra sinistra che vediamo mentre la seconda rimane dentro questo edificio andiamo subito giù a vederle molto prepotente vi ricordo ragazzi che questa missione non è proprio una di quelle difficili quindi vi darà solamente cinque stelline sul pass battaglia che comunque sempre meglio di niente ecco qua la prima ragazzi molto semplice sui binari ci facciamo un bel balletto davanti ragazzi quello nuovo l'orange justice via di qua ci la pompa non si sa mai metti che arriva qualcuno e già possiamo intravedere là davanti sotto o meglio vicino a quell'ombrellone la seconda cineprese che ci garantisce già due obiettivi su sette di questo già fatto andiamo a farlo ballare molto easy la terza cineprese ragazzi invece la troveremo vicino al rifugio ritirato praticamente vi sto facendo vedere adesso con la mappa aperta si trova alla base io le chiamo le tribune di gara praticamente perché questa è palesemente una pista off road per moto da cross come vedete ragazzi qua vicino ai quattro carrelli della spesa c'è un altro binario e una cinepresa davanti c'è già un tipo che ci sta ballando e c'è un sacco di gente che balla davanti alla cinepresa andiamo a farci il balletto anche noi ragazzi tre cineprese su sette già fatte cinepresa numero 4 ragazzi ancora più facile di quella scendere al campo da calcio a 5 quello che rimane in poche parole tra condotti confusi e tilt towers che sarebbero pinnacoli pendenti facciamolo scendere intanto intanto ragazzi vi dico un paio di cose ma voi cosa ne pensate di questa modalità a tempo limitato con tanos io già ve l'ho chiesto in live ma mi piacerebbe saperlo anche qua sotto nei commenti e soprattutto avete già fatto tutte le sfide della settimana due mi raccomando ragazzi importantissimo fare tutte le sfide perché sbloccherete così un nuovo oggetto disponibile quello scorso era un wallpaper da usare nelle schermate di caricamento come vedete ragazzi questa è semplicissima è una normalissima cinepresa da riprese da stadio vicino al campetto da 5 proseguiamo ragazzi nuova cinepresa questa invece la troviamo nella chiesa grande di montagnole maledette quindi approfittatene per scendere e per dare un'occhiata a montagnole ciao un bel loot come location troverete almeno cinque chest se siete fortunati vi ricordo una chest proprio nella cima della chiesa che andremo a vedere tra pochi istanti nel campanile ce ne sono molte altre invece nei sotterranei quindi date una bella occhiata ce n'è anche una esterna sia sopra il camioncino che troveremo alla sinistra di montagnole che in mezzo al cimitero vero e proprio lasciamolo scendere sulla chiesa più grande che è quella che stiamo vedendo qua davanti ragazzi ecco vedi il campanile te lo sto facendo vedere adesso aveva già dentro un chest vediamo se riusciamo a vederlo anche da qua no purtroppo non lo vediamo comunque noi entriamo nella parte principale e davanti a noi eccola qua la cinepresa facilissima da riconoscere easy il balletto e via così ce ne siamo tolta un'altra avanti ancora dovrebbe essere la penultima cinepresa questa invece ragazzina non è in una location molto molto più semplice da raggiungere dove è stata scoperta l'impronta del dinosauro quindi anche qua si è aperto un bel dibattito sul fatto della stagione numero 5 di fortnite intanto noi ridiamo e scherziamo ma siamo già a metà della seconda settimana della stagione vola il tempo vola ragazzi il tempo vola mi raccomando fate tutte le missioni importantissime quindi questa impronta di dinosauro che cos'è sicuramente fa parte di un set cinematografico perché appunto c'è davanti la cinepresa ma sta preannunciando per caso l'arrivo della stagione 5 con i dinosauri boh non lo sappiamo comunque la cinepresa è qua e molto semplicemente ragazzi ci andiamo a ballare davanti e ci togliamo anche questa ultima cinepresa ragazzi è quella che si trova vicino al crocevia del ciarpame e più precisamente in quel complesso che è stato costruito apposta per la stagione numero 4 ci buttiamo giù di brutto dovrebbe essere l'ultima fatemi vedere sì credo proprio di sì credo proprio di sì lo state vedendo proprio davanti a me ragazzi la fabbrichetta quella lì sulla destra con le due mini fabbriche sulla sinistra contengono l'ultima cinepresa e vi consiglio anche di controllare anche le due fabbrichette lì di sinistra perché di solito c'è dentro un chest e sui tetti come già state vedendo ci sono delle armi con delle munizioni quindi molto semplice ragazzi eccola qua ragazzi la cinepresa davanti a noi ci mettiamo davanti facciamo il nostro ultimo balletto e ragazzi possiamo anche stopparlo così perché la missione è completata beh ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia risultato utile per togliervi dai piedi anche questa missione io vi ricordo sempre un bel like se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e condividete con tutti i vostri amici i miei video per rimanere sempre aggiornati sulle news di fortnite e di fortnite per android noi ci vediamo in live ciao 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 Grazie a tutti.